Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio di Pokémon Sienna Version Nello scorso episodio abbiamo fatto un sacco di cose Abbiamo sconfitto la palestra di TV Fuoco, sconfitto il Team Rocket E proprio alla fine abbiamo incontrato Luia, mamma mia Quindi abbiamo scoperto forse il leggendario del gioco Ho controllato le vostre risposte alla DDG della volta scorsa Sia se tenere in squadra tumore o no E mi è piaciuto particolarmente il commento di uno di voi Scusami caro mio, non mi ricordo il nome Ma colui che mi ha detto di tenere tumore perché potrebbe tornarci utile E comunque con tre tipi fuoco mi è piaciuto E quindi ho deciso di tenerlo, ovviamente giustamente l'ho rinominato Cancro Perché non è che il motivo è molto chiaro Comunque appunto ci tornerà utile nel caso ci fossero Pokémon di tipo fuoco Che potrebbero darci problemi In ogni caso io non lo allenerò durante l'episodio Al massimo lo allenerò fuori parte Se ne trovassi uno migliore lo metterai in campo E se ne dovessi trovare uno migliore Meglio i congiuntivi Comunque, comunque, comunque Sì, state vedendo bene Ho catturato un Trico E poi l'aborto due Cioè lui Ovviamente non li metterò in squadra Né uno nell'altro Uno perché non è un Fakemon L'altro perché non è un Pokémon in generale E niente, li ho trovati nella foresta Quella dove c'era il Team Rocket nei primi episodi Intanto affrontiamo questi allenatori qua bellissimi Ma Magikarp E sei un allenatore di tipo Cioè un allenatore Com'è che si chiama? Un avvicoltore E hai un Magikarp Ok, tutto chiaro No, no, no Ma è giusto, è giusto, è giusto Raga, non facciamoci problemi Comunque noto con piacere Che siamo anche deboli al tipo Volante, effettivamente Merda Il ritorno Il ritorno di merda Il ritorno di merda Mi dispiace merda Devo farlo Addio Sarei sempre nei nostri cuori È tornato raga È tornato Questo è un presagio Questo è un presagio Questa serie andrà bene È un presagio per forza Comunque Crunch Cioè per dirvi quanto cazzo è forte sto cosa Eleverei facciata Visto che è di tipo normale E comunque Non è sta gran mossa Ho visto bene Geridos Sì, Geridos Almeno questo caro di tipo volante Ho miscliccato Volevo fare Thunder Punch E lo facciamo adesso A casa, caro mio Comunque, signori miei Starete vedendo questo episodio Body Slam Eh, potessi levare cut Dio buono Dicevo, starete vedendo questo episodio Penso il Ciao, caro bullo Il giovedì sì E dovete sapere che sarò in Francia Ora non so se avrò fatto un vlog Per dirlo Comunque Se questa settimana sono usciti pochi video È proprio per questo Comunque Sì, bravo Fai ripeti Bravissimo Complimenti Shackle Vai a casa Allora Perfetto Giù Comunque dovrei mettere Dragonair Allora ok Ice Punch di Dargos Ragazzi Sti allenatori qua Con questi Pokémon Poco forti Cioè veramente Mi sorprendete Signori miei Devastato Comunque ho notato anche un'altra cosa Signori miei Che nello scorso episodio Mi pare nel quinto C'è stato un casino con l'audio Nel senso che praticamente Si è sminchiato tutto Cioè non so proprio il motivo Però Boh Si è sminchiato Camtasia mi ha registrato di merda E vabbè Spero che migliori Sta situazione Comunque Se non sbaglio Nella Nella Crazy Lock Tra l'altro ragazzi Vi ringrazio un sacco Perché la Crazy Lock È andata benissimo Benissimo Ehm Appunto nella Crazy Lock Queste cose non succedono È successo solo con Sienna Io il motivo non lo so Spero di risolvere Comunque Mag B Levati E siamo arrivati Dove c'era prima Lugia Penso Oddio C'è Rochette Michiola Musichette di Lavandonia Avete finito di mettere Musichette di Lavandonia A caso Cari miei Proclamatori Ah ok L'ho ottenuta Tempo fa Ah grazie caro Rochette Non abbiamo possibilità Di rifiutare la tua battaglia Va bene Torcol Torcol contro Sting Caro mio commentatore Di cui non ricordo il nome Sia sempre L'ho dato Ehm Il genio Che ti ha fatto dire Quella cosa Sì però Se continui a fare Iron Defense Io ti butto giù domani Io ti butto giù domani Mamma mia raga Vedere Cancro in campo Mi fa impressione Aia Magnitudo 8 Buttalo giù Non gli ho fatto niente E E allora vai a cagare Va tanto se hai cancro Ci sarà pure un motivo Via Esplodi Ehm Dargos Prova a mandar tu Snorant Perfetto Snorant Razor Leaf Vero Confuse Ray Sei una merda Allora Proviamo a mandare Sting A sto punto Raga non devo rischiare Perché questo qua mi fa paura Minchia Ice Beam Ma È un cosino così Come fa avere Ice Beam Ma Ma santo cielo Non ho letto Sì no Però mi sa che è Che è quello È infatti È lui Non lo so Ti faccio un Voltaical Ok Non mi shottare 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 Uh Voltaic No Ma sono un cretino Vabbè Succede Va bene ci sta Sacrificati per la patria Sting Cacnea E tu vuoi concludere la battaglia con Cacnea A casa Mamma mia Rocet Quanto mi deludi Sei abbastanza bravo La città Sembra molto simile a quella dell'altra Bellissima Sta casa qua Proprio piena di vita Mi dicono Si c'è la palestra Quindi mi sa che oggi andremo a sfidare la palestra Duncan Fossil Research Laboratory Va bene E vabbè Si c'è proprio proprio distrutto Mi dicono Puoi tornarmi utile No in nessun modo anche Allora Direi di andare al centro Ancora con sto centro market Al pokemon market Per comprarci un po' di pozioni Tipo 10 Un po' di revitalizzanti Tipo 2 Un po' di full heal Tipo 2 Anche loro Devo finirla di dire Tipo 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 Prendiamo anche un po' di ultra ball A sto punto Perché Ci sarà pur qualche pokemon Da catturare Noi la squadra La dovremo ampliare Palestra signori miei Rain village Pokemon gym Sarà di tipo psico No Shocks are your opponents Quindi Qualcosa mi dice che è di tipo Le Ok Tu sei il capo palestra Ok Dobbiamo sfidare ogni allenatore Per batterti E' questo il significato Comunque Dato che è di tipo elettro Raga Io metto davanti cancro Così lo alleniamo un attimino E potrà tornarci utile Raichu Can No ma dai Ho fatto se Ma no Ma no Ma che cosa è triste Ma povero cancro Cioè povero cancro Un corn Quello che si merita Meglio l'estinzione Che avere un pokemon Come te Però Allora forse è meglio Se cambio Di posizione Alle mosse Ora il punto sarà Scoprire come si faceva Mi ricordo Assolutamente Vediamo un po' se Teoria così Sì 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 è così Mettiamoci Non lo so Non funziona Sta cosa Mamma mia Programmatori Fate qualcosa Per i prossimi giochi Perché se è ancora così Sta cosa qua Tra l'altro Un'opzione che non ho quasi Ma usato Comunque Quello lì l'abbiamo devastato Ora tocca a lui Io raga Ho come l'impressione Che saranno troppi Sti allenatori Quindi li velocizzo tutti Dai forza Vieni qua Chitarrista mio Pikachu Pikachu E direi magnitudo Minchia slam Mi fai malissimo Mamma mia A casa Perfetto Tra l'altro Magari Cancro si evolverà In qualche Pokemon più decente Si spera Minchia C'è con un magnitudo Quattro T'ho quasi buttato Giù Vabbè che era un critical Però magnitudo Otto Cioè ti spedisce Proprio Olè Perfetto Livello 27 Per cancrino mio Electrode Questo qua potrebbe Spark Cos'è Spark Scintilla Comunque A casa Sì è scintilla Comunque Ciao Chitarrista Ok Però E va bene Eh it's goal Eh va bene È goal E io la password Dove la dovrei inserire Eh Ah qua Aspettate Infatti Ah ok Ho capito Cioè sfidando gli allenatori E battendoli Questi ci danno una password Con la quale possiamo Ah perfetto Dillo prima Allora Super pozione Su cancro Ah ok Mi sa che siamo No non è vero Non siamo arrivati Non è come palestra Quello Vieni qua Sono tutti i chitarristi Io non ho mai capito Perché i chitarristi Dovrebbero essere Di tipo elettro Cioè ok Che è una chitarra elettrica Però Che cazzo c'entra Non c'entra niente Magnitudo 5 Dai Fagliene un altro Magnitudo 7 Perfetto A casa E comunque raga Vedete che Fa veramente comodo Cancro Pikachu 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 Torch A casa Minchia raga Se hanno torcia anche qua È proprio un segno del destino Cioè nuove divinità Cioè c'era nella crazy lock C'era ovunque Volete che non ci sia anche qua You want my password? Correct Bid me And I will tell you it Va bene caro mio gentleman E l'Ekid Magnitudo Non vedo il problema Ma basta fare Vedi che sei proprio un cancro E super puzione Oh rock true Minchia L'ho mandato proprio a casa diretta E l'Ektabatz Che bello lo sprite Minchia ma quasi shottato Mentre Mentre elogiavo lo sprite Questo mi shotta Giustamente Magnitudo 6 A casa l'Ektabatz Qua cancro ha rischiato Di ammalarsi La password è hurt gold L'altra sarà stata solo silver vero? Si che figata però sta cosa qua ci sta Tipo che danno la password Fanno i riferimenti Ok Qua per fortuna mi sa che si tratta di una battaglia in doppia E l'Ektabatz Ed Electrode Cancro Ed Argos Direi di fare un magnitudo E poi chi sarà più resistente Tipo lui Vediamo un po' Stai fermo Maledetto E adesso Uh l'ho congelato Magnitudo 7 Vediamo se mangio tutti Allora Electrode E' a casa Dargos Regge Electrode Mamma mia Cancro La potenza Rollout Ovviamente non te lo insegno neanche per sbagliare Ma non volevi già impararlo poi il rollout Brutto idiota Ti ho detto di no una volta Non è che La password è Vre Se è vre Mamma mia La french proprio Olè Siamo arrivati dalla capopalestra Quindi curiamoci Dargos Cancro è a posto E direi di affrontarla Ciao Sono capopalestra di Ryan Village Nalani Vuoi una battaglia vero? Perfetto Duelliamo Che sembra una frase un po' più alla Yu-Gi-Oh Però Minchia C'hai la quinta La seconda Pikachu Perfetto Pikachu Pikachu Magnitudo No se comincia con Double Team Raga quitto Olè A casa Non reaggi neanche per sbaglio Perfetto Giù Noto che sono un po' deboli Sì allenatori Comunque livello 24 Anche questo Magnitudo 7 A casa Ho paura dell'ultimo Pokémon Ampharos Livello 26 Ok Magnitudo 8 Vediamo se va giù Quasi Lui fa Thunder Wave Potrebbe essere molto fastidiosa Come cosa? Magnitudo 7 Questa volta un po' di meno Thunder Perfetto Mi chiamassi Ma non puoi avere Thunder Shock Caro mio Cioè Almeno Fulmine Non chiedo tuono Ma fulmine Ben fatto Creepy Hai vinto la Infra Badge Questo ti permetterà di utilizzare Flash fuori dalla battaglia Evviva raga Che bello E c'hai la MN Thunder Ma quanto sarai stupida Quanto da uno A dieci E poi usi tuono Shock Va bene Che bella la ROM Che si blocca Raga è commovente Cioè veramente Comunque Curiamoci Pokémon E proseguiamo Dato che siamo solo a 12 minuti Neanche quasi Mettiamo davanti Sting Musichetta di Lavandonia Sotto orecchio E proseguiamo Proseguiamo Neanche per troppo Perché lo farò durare poco Sto episodio Dato che sto registrando Appena prima di andare in Francia Eccolo qua Il nostro Piglia Mosche I guess I immagino di essere Il tuo primo Nel paradiso degli allenatori Cos'è il paradiso degli allenatori Allora A parte che è uno Yanmal 16 Che ti butto giù Anche con una Una pisellata Ma va bene Yanma di nuovo Ma che tristezza raga Allora Via Perfetto Battuto James Piglia Mosche Non è che tipo Una roba come il ponte Pepita Minchia Eeeh Dai Quanti siete Quanti siete Uno come fa a vivere Allora Crunch A casa Pikachu T'ammazzo la famiglia Clefairy Cosa c'entri tu Non ti ho mai visto Nella vita Come hai fatto a reggere Eh vabbè Vol take la casa Sei deficiente Mi dispiace Olè Perfetto Ma tra l'altro Di medaglie io ne ho 4 Sì Raga siamo alla parte 6 Abbiamo 4 medaglie Cioè veramente Tecnicamente siamo a metà gioco Così già Allora No Bag Perfetto Datemi Lo comprate prima Eh Se 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 non ce l'avessi Sarei stupido Olè Mamma mia raga Mi sta già salendo lo scazzo Dai Beedrill Su Su veloce Thunder Punch Ho sbagliato mossa Perfetto Thunder Punch di nuovo E Beedrill va giù E olè Tartwig Minchia Tartwig Spaccia raga Sto Dargos qua Una macchina da guerra Cioè Ha mosse super efficaci Contro ogni pokemon Ogni pokemon E voi siete troppi Ah cosa ridi Cosa ridete Che cosa ridete Cosa Raga è tornato tumore Perfetto Ciao Come sconfiggere I tumori Questa parte La potrei Intitolare così Ma non lo farò Non lo farò Perché ho altri titoli In mente Ancora te Mamma mia Tra l'altro Gli sto facendo al contrario Potrei andarmene Diretto Senza balzarli Ma poi Ehi Non ho i livelli Cioè Perdo Perché poi Io dico Sono scarsi Come nella soul Link Sono scarsi Poi dopo Arrivano i pokemon A livello 30 Gli aprono il culo A mezzo team Ciao Rocket Come scontro Ma come scontro Raga Ma Va bene Ok Va bene Questa crop qua Mi sorprende sempre di più Skiplum Ice punch Efficacia per 4 Se non vai giù così Zio Non so come potresti andare giù Ok Tu c'hai tipo L'allevamento di Skiplum C'hai il fetish Per gli Skiplum Ah no Li evolvi anche Perfetto Troppo buono A casa Via Ok Perfetto Mamma mia Che sofferenza Tete avevo già sfidato Sì Sì Vabbè dai Io speravo che fossero finiti Dustox Tra l'altro sono scarsi Cioè fossero forti Ste battaglie sarebbero anche avvincenti Potrei anche non velocizzarle Capite Però sono dei Dustox Cioè uno come fa A non spazientirsi con E basta usare Protect Oh minchia godo A casa Minchia La tattica migliore del Cazzo VGC 2017 Raga Usate solo Protect E vincerete sempre Onyx Razor Leaf E via Ormai sta diventando una Prassi Eccolo qua Super citato Perché si evolve a livello 26 Il nostro cancro Uh Fendifoglia Oddio 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 Adesso Fendifoglia Mamma mia raga Fendifoglia Era tipo una delle mie mosse preferite Sin dall'anime Ok siamo giunti fino a qua Sembra che ci sia una nota attaccata Stai leggendo questo Quindi vuol dire che hai Che sei veramente un Grande allenatore Sei riuscito a sconfiggere Gli allenatori dell'Atalanta Plains Prendi questo Questa MT15 per raggio Non fare domande Ma se vuoi scoprire la mia intenzione Ti aspetto nella Vray Cave Riley Chi è Riley raga Non si sa Comunque questa è la Vray Cave Immagino che si possa entrare Ma noi usciamo subito Perché ragazzi La parte finisce qua Io spero che vi sia piaciuto E se così vi invito Come al solito Lasciate un like Al commentare A iscrivervi al canale Rispondete alla domanda del giorno Che in questa serie Si trova Qua sopra E passate dai social Che trovate in descrizione E detto ciao Noi ci becchiamo In un prossimo Video